Presto saranno comunicati i nomi del candidato governatore della Regione Puglia e del candidato sindaco di Andria per il centrodestra. Mentre per Trani la decisione è stata presa e si punta sul professore Filiberto Palumbo. Sono alcuni dei passaggi dell'intervista realizzata a Trani a Nicola Giorgino, commissario cittadino di Trani della Lega, in occasione della presentazione del libro. Io sono Matteo Salvini. Sentiamo. Il nostro leader Matteo Salvini è stato molto chiaro. Ha detto che indipendentemente dalla scelta dei nomi, sui quali chiaramente ci sarà l'unità di intenti con gli altri partiti della coalizione, occorre fare programmi e squadra per essere competitivi e affrontare le prossime sfide decisive per il cambiamento nella nostra Regione. È una Regione che arranca sotto molteplici aspetti, sotto il campo e il profilo dell'agricoltura, in materia ambientale, in materia di sviluppo economico, in materia sanitaria. È evidente che c'è bisogno di un cambio di marcia e si sta programmando una sfida vincente con contenuti, programmi e uomini che possono essere in grado di cambiare. Poi i tre leader si siederanno al trapole e troveranno la sintesi migliore per far sì che il centro-destra torni a guidare questa Regione. Chiaramente spero di essere in competizione in questa campagna elettorale per affrontare e dare il mio contributo per contribuire a cambiare questa Regione, migliorarla sotto quei profili che ho detto poc'anzi, soprattutto per rendere la sanità migliore rispetto a quella che abbiamo avuto ora, per cercare di dare ancora più sostegno, anzi molto più sostegno, in materia agricola, nel campo dell'agricoltura, atteso che abbiamo speso e abbiamo perso tante risorse nell'ambito del PSR con grave danno per i nostri agricoltori. E questo credo che sia un fattore determinante, soprattutto nel nostro territorio provinciale, il cui PIL si basa essenzialmente sull'agricoltura, ma anche in materia ambientale, visto che purtroppo, nonostante la formazione di agenzie come l'Agero o altre situazioni del genere, non si è riuscita a trovare soluzioni ottimali e portiamo ancora i rifiuti al nord Italia con costi a carico dei cittadini. E a Trani si è trovata la convergenza su un nome unitario attraverso appunto un momento di sintesi. Ad Andria al più presto si cercherà di trovare una sintesi anche per tenere unita la coalizione, così come ho spiegato sempre dai leader, attraverso l'equilibrio e il perseguimento del bene comune, dove si dovrebbero trovare delle situazioni che devono essere chiaramente, devono contingentare tutti gli interessi e non ci possono essere prevaricazioni personali perché altrimenti non si raggiunge l'unità della coalizione.